Nessuno pensava di riuscire a riempire questa struttura quando abbiamo deciso di fare un convegno di questo tipo qui. Era poco prima di Ferragosto e mi hanno detto te sei matto a voler fare questa cosa. Ecco, matti siamo tutti noi perché abbiamo ancora voglia di far sentire la nostra voce e perché abbiamo la voglia di gridare che contro le ingiustizie non è facile fermarci. Per cui ringrazio innanzitutto i relatori, ringrazio i politici che sono qui presenti, ringrazio il senatore Maurizio Romani, ringrazio il senatore Paolo De Pin che avremo il piacere magari di ascoltarlo in un secondo momento, ma soprattutto ringrazio tutti voi per la passione e la voglia con cui continuate a seguire questo argomento e la passione e la voglia con cui volete, vogliamo difendere un diritto, un diritto che è il diritto alla salute, il diritto alla scelta, il diritto a poter decidere con la nostra testa e non soltanto rispondere a degli obblighi e a delle leggi coercitive. Noi non crediamo, semplicemente io non voglio fare ora discorsi perché oggi io faccio soltanto una breve introduzione e non voglio parlare di medicina, però quello che non sopporto è l'idea di mettere la popolazione l'una contro l'altro, di dare l'idea che ci possano essere persone contro i vaccini e persone a favore dei vaccini. Questo è assurdo, è falso, non è vero, non è vero. Come non è vero che ci possano essere persone favorevoli ai farmaci e contrari ai farmaci, ma cosa significa, ma che cosa vogliono dire queste etichette? Noi abbiamo soltanto bisogno di verità, abbiamo bisogno di un dibattito e un confronto scientifico serio perché è la letteratura scientifica che ci dice che i vaccini sono efficaci ma possono causare effetti collaterali e reazioni avverse. Esistono 14 manifestazioni patologiche accertate correlabili con le vaccinazioni e ben 135 eventi avversi di cui l'istituto americano, l'istituto for medicine americano ha detto che non ci sono prove né di una correlazione né di un'assenza di correlazione. Ecco, partiamo da queste cose e queste cose, per citare, visto che tante volte le mie affermazioni sono trasfigurate, queste cose le ha scritte Peter Doshi che è l'editorialista del British Medical Journal. Questo per dire quanto la comunità scientifica in realtà dibatta questo problema e come questo problema dei vaccini, attenzione, non è altro che un segnale importante di come la politica voglia interferire sulle scelte della vita di tutti i giorni. Oggi si comincia coi vaccini, domani sarà sullo stile di vita, sulla scelta alimentare, perché no sull'agricoltura non convenzionale. Tutto questo dà fastidio, tutto questo è un piano preordinato per limitare la nostra libertà a cui noi abbiamo il diritto e il dovere di dire no. Grazie a tutti. Inviterei il dottor Seravalle e il dottor Roberti Di Sarsina e il dorpautri ad accomodarsi sul palco, perché mi sembra il minimo. Buon pomeriggio. Sono il presidente dell'Associazione per la Medicina Accentrata sulla persona Onlus, un ente morale che dieci anni fa abbiamo costituito il dottor Alivia, io ed altri colleghi. Col dottor Seravalle riteniamo indispensabile che si promuovano azioni collettive, azioni di collaborazione tra enti, tra enti diverse, tra competenze diverse. Il dottor Seravalle vi ha accennato al fatto che il problema pur macroscopico dei vaccini è un aspetto di un problema molto più complesso e complicato e grave. Perché vedete, quando una persona è dissenziente le viene attribuita la nomea di populista o di complottista? Noi potremmo riferirci ad altri come coloro che attentano alle libertà democratiche, quindi potremmo chiamarli, che so, golpisti? Allora il problema è un problema gravissimo e soprattutto uno degli elementi che lo contraddistinguono è la intimidazione. La intimidazione, la calunnia, perseguitare individualmente. Questa è un'azione tipica e gravissima di cui tutti dobbiamo essere consapevoli. Medici, associazioni, genitori, aggregazioni politiche e così via. È indispensabile che la società aumenti il proprio tasso di consapevolezza, di informazione qualificata, verificabile, comprensibile, aggiornabile, diffusibile. È inutile rammentare se non velocemente il fatto che la scienza avanza per progressivi aggiustamenti e revisioni, che inevitabilmente la scienza è afflitta da profondi, gravissimi, forse inestirpabili conflitti di interesse. La cosa fondamentale è informare la cittadinanza, stare sempre dalla parte della persona. Ecco perché azioni coraggiose, come quella di oggi e altre a venire, mettono le persone nella possibilità di essere uno a fianco all'altro. E non posso non ricordare qui autorevoli colleghi che sono stati irradiati ingiustamente dall'Ordine dei Medici. Rammento con grande orgoglio che nel simposio nazionale del settembre scorso in Senato, promosso dal senatore Romani, chi noi indicamo, scegliamo, volemmo come moderatore per i lavori durati un anno di preparazione e moderatore della sessione riguardante l'omeopatia, l'omotosicologia, la medicina antroposofica e la fitoterapia, sia e sia stato, meritevolmente, il dottor Roberto Gava a cui va a tutta il nostro solidarietà e sostegno, ora e sempre. Mi ha commiato ricordandovi due cose. La prima, il mai troppo compianto presidente Pertini all'incontro con i giovani, richiamò ardentemente a una seconda resistenza civica. L'altra cosa è che anticamente gli editti, anche ripresi in età carolingia, che venivano emanati di governo, iniziavano con in nomine dei et prosalute popoli, noi difenderemo sempre la salute di ciascuno. Grazie. Buongiorno a tutti e benvenuti. Come prima cosa vi porto un saluto da parte di tutta la redazione di Terra Nuova, parte della quale è seduta in sala. Vorrei dire che siamo davvero molto contenti di promuovere questo evento di ASSIS e AMCP, anche perché la cosa forse di cui abbiamo più bisogno in questo momento è di unire l'informazione all'incontro. Internet ci dà accesso a una marea di informazioni e il valore aggiunto oggi può essere quello di poter guardare le persone negli occhi, poter fare delle domande e poter vivere il presente su questo tema. Vorrei spendere un ringraziamento per le due associazioni che hanno organizzato questo evento davvero in tempi record e insieme anche alla mia collega Claudia Benatti che si ha spesa tantissimo per questo evento. Un applauso se lo meritano. Colgo l'occasione per fare un piccolo annuncio dopo una ricerca, aver vagliato svariati titoli sul tema delle vaccinazioni. Terra Nuova ha finalmente deciso di pubblicare un libro su questo tema. La nostra scelta è andata su un saggio del giornalista scientifico americano Neil Miller dal titolo Vaccine Safety Manual for Concerned Families and Health Practitioners. Si tratta di un progetto editoriale particolarmente ambizioso perché è un libro molto ampio che in più ha necessità di qualche aggiornamento e anche di un'integrazione per la situazione italiana. Comunque abbiamo deciso di cogliere la sfida e vorremmo un po' coinvolgervi in questo progetto. Infatti già vedete l'annuncio su terranuova.it, nei prossimi giorni lanceremo un crowdfunding, una sorta di raccolta fondi dove sostanzialmente c'è la possibilità di acquistare il libro a un prezzo vantaggioso e dare a noi la possibilità di portare avanti questo progetto. In questo momento credo che sia davvero importante sostenere come avete fatto voi spazi di libera informazione come questi e associazioni come ASSIS e AMCP, infatti questa può essere magari l'occasione oggi per associarsi o mettersi in contatto diretto. a questo proposito vi ricordo che le due librerie di Terra Nuova, una qui alla vostra destra in fondo e una al bar, si mettono un po' al servizio del finanziare questa iniziativa, infatti il 30% dei guadagni andrà per finanziare questa iniziativa. Vi ricordo anche che presso le librerie è possibile abbonarsi alla rivista di cui comunque vi abbiamo dato una copia in omaggio. Quindi è importante queste piccole azioni danno la possibilità a questi spazi di libera informazione di continuare a esserci nel tempo anche. Quindi un caloroso saluto a tutti e io proporrei di accogliere i nostri relatori con un bell'applauso di incoraggiamento. Grazie.